Cari amici della Udine Volley, siamo arrivati ormai a fine settimana, mercoledì grande vittoria contro Porto Mantovano, domani si rigioca, anzi stasera rispetto a quando pubblicheremo, si gioca il ritorno in casa loro. Coach della Maria, intanto com'è andata mercoledì? La mercoledì è andata bene dal punto di vista del risultato, naturalmente perché un 3-0 fa sempre piacere. Certe cose non hanno funzionato proprio al 100% rispetto a quello che mi hanno provato, però c'è stata una grande prova delle ragazze, c'è stata sempre in tutti i set la possibilità di dare uno strappo per poter comprare a casa il risultato. Ora sfida a casa loro contro Porto Mantovano, squadra che conosciamo bene dopo due giorni sarà molto simile, cosa possiamo aspettarci di diverso? Sarà molto simile per le persone che ci sono, però sarà una cosa un po' diversa, la palestra è un'altra, loro in casa comunque qualcosina di più lo danno sempre, un po' come tutte le squadre, ma loro in particolare. Sta in noi metterci quel filo di attenzione in più che è necessario per riuscire a provare a casa il risultato. Benissimo, allora appuntamento sui nostri canali social per seguire la partita sabato sera. Buona serata.